110 Istat ha reso noti i dati salinflazione in Italia che, dopo l'ondata di aprile, è tornato al 7,6 grazie alla diminuzione del prezzo delle attività energetiche non regolamentate. Tuttavia, il carrello non migliora, registrando solo al leggero calo, basata sulle statistiche di Istat. La National Consumer Union ha elaborato la classifica delle città italiane più costose in termini di costo della vita. Ecco cosa sono ciò che sono Istat. L'inflazione ritorna in Italia 7,6 come nel marzo 2023.